Cos'è un ceppo lombare? Un ceppo si riferisce a una lesione muscolare in qualsiasi parte del corpo in cui tale muscolo incorre minuscole lacrime nelle sue fibre. La colonna lombare si riferisce alla regione del dorso comunemente chiamata la parte bassa della schiena. Un ceppo lombare, quindi, è un affaticamento muscolare nella regione lombare della colonna vertebrale che provoca dolore, gonfiore, lividi, intorpidimento, formicoglio o altre varietà di dolore. Un ceppo lombare non deve essere confuso con altre lesioni e dolori della colonna lombare, come il dolore del nervo sciatico, ermia del disco o lesioni del legamento. Ceppi di tutti i tipi sono limitati ai soli muscoli. Uno sforzo lombare può verificarsi in uno qualsiasi dei muscoli che supportano la colonna vertebrale nella parte bassa della schiena. Gli infortuni sportivi sono comuni in quest'area, poiché i movimenti di torsione possono sovratto caricare eccessivamente questi muscoli. Gli incidenti automobilistici possono anche causare un tale sforzo, così come il sollevamento di carichi pesanti. Ogni volta che i muscoli della schiena subiscono un carico o un impatto che va oltre i mezzi di questi muscoli da gestire, è possibile una tensione lombare. Le fibre muscolari iniziano a separarsi e a strapparsi, il che può portare al dolore. Se i tessuti muscolari si separano completamente, la lesione è nota come rottura muscolare e potrebbe richiedere un intervento chirurgico per la riparazione. Quando si verifica uno sforzo lombare, è probabile che il malato percepisca un dolore sordo nella parte bassa della schiena. Il gonfiore è possibile, così come lo sono i lividi, anche se se la ferita viene congelata immediatamente dopo il suo verificarsi, il gonfiore e le contusioni possono essere ridotti al minimo, il che a sua volta manterrà il dolore al minimo e incoraggerà la guarigione. Un sacco di riposo è necessario per consentire al ceppo lombare di guarire, il riposo può durare da un giorno a diverse settimane, a seconda della gravità del ceppo. Gli antidolorifici da banco possono anche aiutare ad alleviare il dolore, e nei casi più gravi, un medico può prescrivere farmaci anti-infiammatori per mantenere il gonfiore verso il basso. Per evitare che si verifichi uno sforzo lombare, è necessario partecipare a una routine di allenamento regolare che rafforza i muscoli centrali, ovvero i muscoli che supportano la colonna vertebrale nella parte bassa della schiena, nell'addome, nelle natiche e nei fianchi. Lui o lei dovrebbe anche allungare regolarmente per mantenere i muscoli flessibili e sani. Se il malato si siede regolarmente per lunghi periodi di tempo, è necessario alzarsi dalla sedia spesso per muoversi e assicurarsi che i muscoli rimangano agili. I muscoli si indeboliscono a causa della costante inattività, rendendoli più soggetti a lesioni.